Uè non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi mamma mia cosa è successo nelle ultime 24 ore di Fortnite partiamo subito da quello che è accaduto proprio alle 14 di ieri c'è stato un update per console per pc non so se anche per mobile ma credo di sì che ufficialmente secondo quanto detto da Epic Games è servito a fixare dei bug su alcune skin in realtà in questo update andando nei codici sorgenti sono state inserite delle cose veramente incredibili parliamo ragazzi di ben 114 skin che verranno rilasciate tra la season 10 e la season 11 ma non solo è stato anche inserito che cavolo sta succedendo è anche stato inserito ragazzi il dark fire bundle che è un bundle che non c'entra assolutamente nulla con il dark legend bundle che vi ho fatto vedere anche ieri è proprio totalmente un'altra cosa e nel video di oggi ragazzi parleremo anche della grande stupidaggine del grande passo falso che tfew ha fatto durante un suo streaming ha detto qualcosa che gli costa una denuncia e probabilmente potrebbe anche costargli il ban dalla piattaforma come è già successo ad altre persone ma prima volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone quando sono pazzate di prepotenza mi raccomando non la trovo non so dov'è mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ve l'ho fatta vedere per sbaglio prima quindi non ci perdo neanche troppo tempo la domandina ragazzi la domandina ve la devo proprio fare l'avete già vista chi non l'ha vista gliela faccio rivedere ma secondo te che diamine succederà a lago ghiacciato dai ragazzi è arrivato alle 10 di ieri mattina il doppio rift beacon in game il primo a lago ghiacciato appunto il secondo a palmetto paradisiaco secondo te che cosa succede dai voglio sapere tutto quello che vi viene in mente torna boschetto non torna boschetto succede si scioglie il lago non si scioglie il lago esplode di nuovo cosa vi viene in mente mi raccomando fatemelo sapere ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo allora subito molto molto velocemente a vedere i due rift in game mentre facciamo ancora due supposizioni su quello che potrebbe capitare anzi vi dico il mio punto di vista volete la verità secondo me non torna boschetto me lo sento me lo sento è troppo facile è troppo facile che mi fanno tornare il boschetto così ragazzi con un rift allora potrebbe capitare che come è successo al campo da calcio c'è un malfunzionamento esplode il rift beacon allora avrebbe senso che magari parte del lago venga distrutta e quindi parte di boschetto venga riproposta al ai giocatori in mappa anche perché in realtà non vedo cosa potrebbero costruirci sopra il lago ghiacciato non ne ho davvero idea mentre sono più propenso a pensare che a palmetto paradisiaco questo secondo rift beacon in realtà potrebbe essere ufficialmente il vero ritorno di putrido pantano moisty mare in inglese moisty mare il putrido pantano ragazzi ci hanno un pochettino illuso quando abbiamo visto il primo rift tra gerusalemme e la track en oasi in realtà è arrivato tutta pandora però questo rift a palmetto è molto molto più interessante quindi staremo ovviamente a vedere cosa ci riserva il futuro e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento questo è sempre l'immagine di prima e eccolo qua ragazzi eccolo qua bello come il sole strozo come i castori il signor tfew ne ha fatta un'altra delle sue ragazzi e questa volta è veramente grave perché durante uno streaming voi sapete streama ovviamente su twitch ha usato la n word brutta situa ragazzi molti di voi molti sanno che cos'è molti diranno che cos'è la n word perché è così grave perché twitch ha un regolamento molto molto ferreo sulle diversità razziali la n word è quella che noi utilizziamo forse un po troppo semplicemente che inizia per ne e finisce per o avete capito no quando vogliamo indicare i ragazzi di colore disprezzandoli vi faccio vedere la clip vi faccio vedere la clip perché si è si è alzato un polverone non indifferente giustamente uno streamer così grande ha anche tantissimi haters e al primo passo falso non perderebbero ovviamente non perdono ovviamente occasione per prendere provvedimenti vi faccio vedere proprio il momento in cui l'ha detto eccolo qua eccolo qua l'errore di tfew che gli potrebbe costare la carriera l'errore di tfew che gli potrebbe costare la carriera ci sono stati parecchi streamer bannati dalla piattaforma twitch per aver utilizzato questa parola e purtroppo in tutto il mondo può capitare che ci siano delle delle mosche bianche chiamiamole così una ragazza con 100.000 iscritti ha detto molto esplicitamente questa parola non sono stati presi i provvedimenti c'è ancora un polverone veramente molto molto alto vedremo che cosa succederà con tfew di certo un passo falso che poteva tranquillamente evitarsi ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua trovato nei file di gioco trovata nei file di gioco un'immagine relativa al dark fire bundle un bundle ovviamente che sarà disponibile per console e per computer ovviamente per pc come vedete sarà un bundle super interessante che come vi anticipavo non c'entra assolutamente nulla con il dark legend bundle quello che vedrà il dark il cavaliere rosso che diventerà dark il dark jonesy e la versione oscura della skin jolly questo dark fire bundle ragazzi vi faccio vedere nel dettaglio avrà al suo interno 13 nuovi oggetti divisi ovviamente oggetti outfit skin ci saranno 13 nuovi oggetti in generale tre skin leggendarie si dice che ci sia il la versione oscura di accordo potente ne avevamo già accennato e mentre le altre due sono ancora un pochettino sul chi va là ci sono tre leggendari tre backpack leggendari tre doppi picconi rari tre skin per le armi epiche e una nuova emote quindi un nuovo ballo dedicato il tutto confezionato preparato fresco al limone 29 dollari e 99 per noi sta sui 25 euro quindi un bundle esclusivo che prenderanno probabilmente i collezionisti e tutti quelli che vorranno appunto aggiungere un set in più al loro armadietto ma chiudiamo ragazzi il video di oggi parlando anche delle 114 nuove skin che sono state trovate nei file di gioco non ci sono ovviamente le immagini ma abbiamo i nomi come vedete m vuol dire che la skin è maschile ne leggo qualcuno traveler che vuol dire viaggiatore tomato boxer ne abbiamo parlato proprio nel video di ieri è wiz kid che sembrerebbe un uno stregone bambino ma ce ne sono tantissime altre party boy per dire è shiitake shaolin che potrebbe essere magari il baobross non lo so non lo so squid kid squid kid per chi ha guardato la mia pagina instagram è il il personaggio di splatoon il videogioco sparatutto per nintendo che probabilmente farà un crossover con fortnite altre skin maschili gangster monster halloween ghoul trooper attenzione ne parliamo domani perché c'è tutto un argomento halloween che vorrei parlarvi ma non c'ho tempo e invece tutte le femminili ragazzi street devil tactical jungle sushi ninja e ancora pale spooky parkour robber shiti spectra steel trap e avanti ancora black monday dark dino desert of swamp insomma ragazzi una fucilata di nuove nuovissime skin in arrivo tra la season 10 e la season 11 beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi le news di fortnite mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao 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 Grazie a tutti.